Musica Ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. C'è attesa per l'imminente futuro della politica italiana dopo risultati elettorali. Oggi Matteo Salvini si è detto contento della compattezza del centrodestra e ha ribadito andremo insieme al Quirinale, siamo la prima coalizione e siamo la speranza per gli italiani. Il segretario della Lega ha aggiunto c'è un Parlamento, c'è un candidato premier, il sottoscritto e c'è un programma che porterà fuori l'Italia dalle sabbie mobili. Chi vuole sostenere questo programma dice ancora Salvini lo accettiamo ma non faremo specifica accordi partitici. Adesso vogliamo sentire il presidente della Regione Veneto Luca Zaia e ascoltare anche un suo commento sulla posizione del Veneto e sui risultati elettorali. Governo regionale ma anche politico in questo doppio ruolo da presidente della giunta regionale come vedi il futuro politico del nostro paese? Da amministratore le dico che è fondamentale che si rispettino i patti con i cittadini, penso a noi veneti che chiediamo l'autonomia e bene che lì a Roma sappiano con chiarezza che noi votiamo e abbiamo votato per l'autonomia. Quindi mantenere le parole date ai cittadini perché di programmi ne abbiamo sentiti tanti. E da leghista che dice? Dico che il segnale che arriva dal Veneto è un segnale importante, è un segnale che chiede autonomia, 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 è un segnale importante che poi dà seguito a quello che è stato il referendum del 22 ottobre 2017. E nell'Italia divisa in due tra 5 Stelle e centrodestra con Lega Trainante? Viene a fuori ancora il Veneto che dà un grande segnale di civiltà, la prima regione d'Italia per affluenza alle urne. Penso e immagino che si dovrebbe prendere esempio dal Veneto per capire come si amministra l'Italia. Qualcuno tira sempre la giacchetta, lei lo vede anche come possibile ruolo in qualche governo del futuro? Rischiano di rompermela se me la tirano tanto perché io resto in Veneto e devo farlo autonoma. Incidente nel pomeriggio di oggi sulla A4 tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro, coinvolti un furgone e due camion in direzione Venezia. La viabilità è andata in tilt e si sono formati numerosi chilometri di coda. Gli esperti del RIS di Parma al lavoro sul luogo del massacro avvenuto in provincia di Treviso dove sono stati ammazzati marito e moglie. In questi giorni sono stati raccolti elementi come tracce biologiche e impronte ritenute importanti al fine di identificare gli autori del terribile duplice omicidio. In provincia di Padova, in via Capello, a 90 Padovana, una persona nel pomeriggio si è schiantata contro una recinzione a bordo di un'automobile. Un impatto violento come si vede dalle immagini ma il conducente si è dato immediatamente alla fuga sul posto. Si sono portati numerosi soccorritori anche se dell'uomo non c'era traccia. Presenti i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza. è presente anche la polizia locale per i rilievi e per identificare l'uomo che è fuggito. Scontri dei tifosi durante la partita di calcio Vicenza-Padova. 16 perquisizioni sono state effettuate questa mattina dalla polizia di Stato in un'operazione che ha portato a 20 indagati. Vediamo i dettagli. All'alba di martedì mattina la polizia di Stato ha fatto scattare una serie di perquisizioni a carico di appartenenti a gruppi di ultraspadovani coinvolti negli scontri, verificatisi lo scorso 27 gennaio in occasione dell'incontro di calcio Vicenza-Padova, quando rimasero feriti anche appartenenti alle forze dell'ordine. L'operazione è stata predisposta su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza. Le indagini sono condotte dalla Digos di Padova e Vicenza. Agli indagati vengono contestati numerosi reati, travisamento in occasione di manifestazione sportiva, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportiva, violenza a resistenza pubblico ufficiale aggravata, manifestazioni esteriori del disciolto partito fascista, lesioni personali aggravate. Oltre a provocare gli scontri prima dell'inizio della partita, alcuni ultraspadovani, durante e dopo il match, si sono evidenziati per l'utilizzo di gestualità tipiche di estrema destra e per l'esposizione di striscioni e cartelli dal contenuto antisemita, fatti per altro compiuti il 27 gennaio, data in cui ricorreva la giornata della memoria. Sono 20 le persone indagate nella vicenda. Le perquisizioni di oggi hanno riguardato 16 padovani. Durante gli scontri era stato ferito in maniera seria un dirigente della questura berica, colpito con un violento calcio alla schiena. Negli incidenti erano rimasti feriti anche altri tre poliziotti. Per tutti i 20 ultras, il questore di Vicenza, Giuseppe Petronzi, ha avviato le procedure per l'applicazione del DASPO. 12 di loro, già in passato, resosi responsabili di vicende simili, rischiano il massimo della pena, fino a 8 anni di DASPO con obbligo di firma. È giallo su un terribile incidente avvenuto questa mattina sulla 4 nel Milanese, nei pressi dell'uscita a Cavenago Cambiago con direzione Venezia. Una donna dell'apparente età di 60 anni ha attraversato la careggiata ed è stata travolta e uccisa. La polizia stradale sta ricostruendo quanto accaduto. Sul posto non c'erano automobili riconducibili alla vittima che con sé non aveva nemmeno documenti. In particolare si vuole accertare se si è arrivata sul posto da sola e per quale motivo o se sia stata lasciata lì da qualche automobile di passaggio. Le indagini sono in corso. Individuato l'autore dell'attentato incendiario alla moschea che si trova a Padova in zona stanga. Si tratta di un 57enne che ora è stato denunciato. A identificarlo sono stati i carabinieri che hanno visionato i filmati delle telecamere presenti in zona. Il piromane però aveva anche lasciato una traccia. Aveva perso sul posto la sua tessera elettorale. L'indagato non è legato a nessun partito. Il suo atto non è a sfondo senofobo e nemmeno riconducibile a pregiudizi religiosi. È da inquadrare in una reazione abnorme ad una lite per futili motivi. Adesso parliamo del raduno dei bersaglieri 2018 con il cosiddetto passaggio della stecca. Dal 7 al 13 maggio si svolgerà a San Donati Piave in provincia di Venezia il 66esimo raduno nazionale dei bersaglieri. Nel 2017 è stato ospitato a Pescara e lì è avvenuto il passaggio di consegne con il Comune Veneto, quello che viene chiamato il passaggio della stecca. Nell'imminenza dell'evento Piave 2018 il comitato organizzatore ha voluto che la stecca fosse itinerante, toccando i comuni veneti una quindicina che patrocinano la manifestazione. Simbolicamente la stecca ha fatto tappa a Palazzo Balbi a Venezia dove è stata presentata al presidente della regione Luca Zaia e al vicepresidente Forcolin dal presidente regionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri Antonio Bozzo, dal presidente del comitato organizzatore di Piave 2018 Mauro Cattai e da una rappresentanza delle associazioni provinciali. Il passaggio della stecca, detto Bozzo, è soprattutto un atto simbolico perché vuole essere un passaggio di consegne etico e morale e nel centenario della grande guerra per ricordare quanti hanno combattuto, quale data è il luogo migliore se non il Piave. Nel corso della manifestazione in maggio a San Donato, dove sono attesi circa 100.000 Bersaglieri, è prevista anche una sfida a suon di musica tra bande europee e sarà gettato un ponte sul Piave in memoria degli eventi bellici del primo conflitto mondiale. Al termine la stecca passerà a Matera per il raduno nazionale 2019. Un'automobilista di 47 anni originario di Venezia è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Nella giornata di ieri l'uomo aveva travolto e ferito una donna in un incidente avvenuto alla periferia di Bologna. Nonostante la donna fosse a terra ferita e sanguinante, lui si era dileguato. Gli agenti della questura, grazie ai dati forniti da un testimone, hanno rapidamente rintracciato la Focus che era ferma in un luogo poco lontano dall'incidente. Dagli accertamenti si è poi occupata la Polizia Municipale che terminati rilevi ha denunciato il conducente. Uno sguardo alle condizioni climatiche. Secondo l'ARPAV fino a domani il Veneto continuerà ad essere interessato dalla parte più meridionale di una depressione con nucleo sull'Europa centro-settentrionale che porterà varie precipitazioni. Giovedì e venerdì alta pressione con aumento delle temperature. Sabato avvicinamento di una depressione da nord-ovest e sono attese purtroppo altre precipitazioni. Quindi avremo condizioni buone solamente nella giornata di giovedì e venerdì. Grazie per la vostra attenzione, vi aspetto domani, vi auguro una buona serata con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie per la visione.